Ma acquisterà un camper per la sua campagna elettorale? Ma ce ne sono tanti, vedremo. Oggi era il primo incontro che aveva con Matteo Renzi dopo la sua candidatura alla segreteria, le ha detto qualcosa, anche solo una battuta? Ma c'è conoscenza e amicizia e questo è un punto importante anche quando a volte si hanno opinioni politiche diverse e comunque si milita nello stesso partito. Non le ha detto niente? No, avevo già detto che mi sarei candidato e ci siamo rincontrati altre volte. Io credo oggi c'è stata un'intervista abbastanza dura del segretario regionale del PD. Non commento le invettive, su questo non farò scivoloni da qui fino alla fine della campagna congressuale quando sarà indetto il congresso. Grazie.